ok andiamo a fare questo bagno nell'acqua ci sono meno 19 gradi vediamo un po oddio voglio morire due gradi dell'acqua oddio ce l'ho fatta io mi sento giovane di nuovo anche questi sono i sorsi che si sono? quant'i sono i qui? ciao 6 non ti fa fare per me? Grazie a tutti. Grazie a tutti. I rovani eme mi stanno andando a fare la sauna di neve che è l'aperto, dentro la neve può stare solo 15 minuti dopodiché se scioglie quindi vi fanno uscire. Grazie a tutti. Ok, non si vede niente. Comunque sono in un cottage sul lago, solo io. All'ultimo mi hanno cambiato la stanza, quindi adesso ho anche la sauna dentro. Considerando che ci sono meno 22 gradi, oggi sono morta di freddo, sono venuta a casa, ho cenato, mi sono fatta un paio di sauna per far sì che la sauna funzioni, dopo devi uscire all'aperto, altrimenti ti addormenti, praticamente ti abbassa la temperatura. Invece la rosa bella è proprio questo shock termico pazzisco. Adesso ci dovrebbero essere meno 20 gradi, io sono nuda, ho circa 40 minuti di sauna e adesso appena mi rivesto, insomma, mi riscaldo un attimo e tutto. Vado a vedere l'aurora o almeno vado di vedetta per almeno due ore, se non la vedo stanotte non la vedo mai più perché domani parto. Vabbè, mi aggiorno. Ciao! Vabbè, mi aggiorno.